Alla fine andrà tutto bene perché la statua è dell'Italia e in Italia deve tornare. È ottimista il procuratore della Repubblica di Pesaro Cristina Tedeschini che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa sull'Isippo insieme al pubblico ministero Silvia Cecchi e il legale dell'associazione Le Cento Città Tristano Tonnini che 11 anni fa con un esposto aveva fatto riaprire il caso. E' stata definita una maratona la vicenda giudiziaria tra l'Italia e il Getty Museum di Malibu in California dove si trova tuttora esposta la statua di bronzo attribuita allo scultore greco Lisippo e ripescata nel 1964 nell'Adriatico dal peschereccio fanese Ferruccio Ferri comandato da Romeo Pirani. Venerdì scorso il GIP Giacomo Gasparini ha firmato l'ordinanza immediatamente esecutiva che per la terza volta dal 2007 a oggi impone la confisca della statua dell'atleta vittorioso acquistato per 4 milioni di dollari perché il rinvenimento è avvenuto in acque territoriali e a poche miglia dalla costa. Purtroppo però non è ancora detta l'ultima parola, infatti gli avvocati del Getti hanno annunciato il ricorso per Cassazione e se fosse confermato si dovranno attendere altri mesi per la sentenza. E' un'ordinanza che ci tranquillizza molto in fato, anche se in itinere un passo avanti su questa speranza di riportare l'atleta in Italia. Le prove sono lampanti e anche i documenti forniti in processo, ha detto l'avvocato, evidenzano la malafede. L'ultima pronuncia, ha proseguito poi il PM, usa termini netti e il Getti si dovrebbe sentire obbligato alla restituzione alla luce anche di quanto detto durante un tavolo tecnico nell'82 e cioè che in caso di un provvedimento proprio come questo avrebbero riconsegnato la statua. In ogni caso abbiamo in servo delle contromosse, hanno detto, come per esempio una forte pressione diplomatica. Quello che siamo riusciti a ottenere fino ad oggi, ha aggiunto il procuratore, è comunque una vittoria e il merito è di questo ufficio perché la battaglia giudiziaria in questione è un caso raro, ancora in itinere, ha precisato, e di estrema difficoltà. Ecco, dopo la sentenza dipenderà, da quanto lei ha detto, forse un po' anche dal tipo di amministrazione statunitense? Beh, prevedibilmente in vicende di questo tipo e con controparti di questo tipo anche tutto quello che ricade nell'ambito politica, stile diplomatico, eccetera, può avere il suo grande peso per cui con questa amministrazione si vedono più tavoli rovesciati che tavoli condivisi. Parlo dell'amministrazione americana. Vedremo, vedremo, dovremo vedere dopo la definitività del provvedimento quali saranno i tempi e quali saranno le scelte. Una speranza al 50%? È prudenziale al 50%, si fa sempre bene. Grazie. Grazie. Grazie.